La città di Fano sempre più protagonista dal punto di vista ecologico e del controllo delle acque per una salubre balneazione. Fano su questo fronte è capofila di un progetto comunitario finanziato per un quarto dall'Europa per il controllo degli agenti inquinanti sulla foce dell'Arzilla a seguito di abbondanti piogge. Un progetto presentato a Primavera che vede amministrazione comunale Aset, Università di Urbino, CNR Regione Marche che dopo la stagione turistica è ai nastri di partenza. Per i primi di novembre verrà consegnato quindi il cantiere alle ditte vincitrici Lappalto che permetterà la realizzazione della vasca di raccolte acque meteoriche dalla capienza di 1600 metri cubi tra il nuovo ponte sulla foce e quello pedonabile a monte. Questo avrà delle ricadute importanti sul litorale che inizieremo a visionare da settembre dell'anno prossimo quindi dalla fine della stagione balneare. Abbiamo solo un piccolo timore che è dovuto al fatto delle condizioni atmosferiche cioè il contratto parla di 250 giorni vorremmo chiudere anche prima. L'obiettivo è quello di evitare di emettere divieti di balneazione come prassi automatica ma di valutare attraverso esami di laboratorio ed elaborazione di dati provenienti dalle centranine la casistica di volta in volta. Abbiamo già iniziato quest'estate con quattro campagne massive e sul specchio d'acqua antistante la foce azilla la rilevazione dei parametri chimico fisici e microbici operata anche dal CNR. Ora metteremo insieme anche date di piovosità, di idrometria e di portata del torrente per studiare le correlazioni tra carica microbica e questi parametri ambientali in generale. La portata del progetto dal costo di oltre 2 milioni di euro è extranazionale e tocca quattro punti strategici nel Mediterraneo, due in Croazia e due in Italia, in Abruzzo e nelle Marche appunto ma Fano in questo ha un ruolo centrale essendo progetto pilota. Dobbiamo sia migliorare la qualità delle acque che arrivano in mare per migliorare la balneazione e quindi dare una maggiore qualità delle acque ai turisti che vengono qui a Fano ma questo comporta che dobbiamo gestire al meglio l'acqua che dall'entroterra vengono verso il mare. L'obiettivo che abbiamo nel progetto la regione Marche, la regione Abruzzo, la regione di Dubrovnik e la regione di Spalata è quello di divulgare le informazioni alle amministrazioni che gestiscono la spiaggia e le acque interne. La qualità della vita non si misura soltanto con le grandi infrastrutture ma si misura anche sulla qualità della vita, sulla sicurezza che noi abbiamo, sulle cose che facciamo. Siamo anche città turistica e quindi questo veramente è un intervento che ci fa onore, ci rende orgogliosi ma è un bel intervento a favore della città.